Salve Leonardo, portiere del Carpi, un'ottima gara, stavate quasi per vincere tra l'ultimo loro attacco, avete incassato il gol del pareggio. Buonasera a tutti, comunque sì, è stata una bella partita, peccato per il gol all'ultimo, però così è il calcio, anzi così è questo torneo. Abbiamo già avuto delle esperienze passate e abbiamo perso o pareggiato allo stesso modo. Eravate quasi sempre in vantaggio, uno o due gol, mancava proprio poco e poi è arrivata la beffa. Sì, purtroppo è così, però quando poi dopo una partita di questa all'ultimo le gambe vengono a mancare, quindi succede. Siete un gruppo di ragazzi, vi siete inseriti in questo torneo, quali le maggiori difficoltà e qual è il bello di giocare qui al campetto? Il torneo è comunque un torneo bello, siamo entrati da poco, abbiamo formato una squadra con alcuni ragazzi così. Comunque diciamo che siamo qui per divertirci, miglioreremo ovviamente, dobbiamo migliorare soprattutto in difesa, nei piccoli buchi che poi ci fanno gol, però comunque ci inquadriamo in poco tempo, essere visto pure in questa partita. Quest'anno il vostro obiettivo sarà quello di divertirvi, poi magari in futuro potrete ambire a qualcosa di più importante? Certamente, il nostro obiettivo è anche di proseguire questo torneo negli anni prossimi e continuando così penso che gli obiettivi saranno veramente ambiziosi. Avete delle buone individualità, magari commettete forse qualche ingenuità di troppo? Sì, abbastanza pure e non ce lo possiamo permettere soprattutto in questo torneo perché servono punti, però come ho detto prima puntiamo a divertirci.